Lo sapevi che sono aperte l'iscrizione alla sesta edizione del premio letterario Una storia per il cinema? Abbiamo già realizzato tre cortometraggi, tre lungometraggi e stiamo cercando il prossimo vincitore. Ma la vera novità di quest'anno è che daremo l'opportunità a tutti i partecipanti di promuovere la loro opera raccontandoli in 30 secondi su tutti i nostri social. Che cosa fai ancora lì? Vai a scaricare il bando! Grazie a tutti!